Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Pensavano che la destra italiana fosse nel PPE, fosse quella destra italiana capace di scommettere sul leader credibile e autorevole come Draghi. Perché oggi la Russia festeggia e fa bene, ma la Russia è 18 mesi che vota contro la fiducia. Sono i moderati del centrodestra che oggi segnano la loro scomparsa politica.